Un insieme di persone, di mani, di menti, che unite lavorano ogni giorno con dedizione, impegno e competenza, per creare un dettaglio, ma è un dettaglio che fa la differenza. Siamo ciò che dà vita a questo, elementi in gomma, che sì sono piccoli, ma che sono presenti nella vita quotidiana di ognuno di noi. Abbiamo trasformato i nostri sogni in realtà e siamo arrivati fin qui con 60 anni di studio, di dedizione, di amore, ma sempre abbiamo creato i nostri prodotti con la massima attenzione alla qualità perché i nostri clienti possano avere il meglio. La nostra vita in azienda si nutre del lavoro di squadra perché è attraverso l'elevata formazione e dedizione di tutto il nostro personale che riusciamo a distinguerci. Cosa sarebbe un'azienda senza persone che la curano ogni giorno? Una forza che ci appartiene è la continua evoluzione. La nostra missione è seguire lo sviluppo della ricerca e investire nella tecnologia perché innovare e saper introdurre nuovi metodi di produzione è essenziale per il nostro spirito imprenditoriale. Noi siamo una squadra, ma una squadra fatta di giovani e di figure storiche. Sappiamo collaborare, sappiamo aiutarci, sappiamo essere un team intraprendente, dinamico e organizzato. Siamo un piccolo oggetto che inserito nel suo perfetto contesto permette al tutto di funzionare, come una piccola cellula del corpo che da sola non serve, ma che unita ad altre crea la vita. Centauro siamo noi.